Venerdì 12 e sabato 13 agosto la seconda edizione del Calvello Music Contest con le esibizioni dei gruppi Le Note di Contrasto, Punti in Spansione, Sea House Band, La Gatta Mammona, Pulp Psycho, Indigesti, Teorie Eliocentriche. Per conoscere l'intero programma www.animusmusicorum.it Calvello Music Contest, venerdì 12 e sabato 13 agosto, in collaborazione con Comune di Calvello, girasole energie rinnovabili, fotovoltaico, solare termico, cogenerazione e microeolico. Sabato 13 agosto alle ore 17.30 incontro con Giancarlo Passarella su marketing moderno nel Rock Beats italiano e nuove strategie promozionali dalle 21 e 45 alle 24 diretta su radiotour.fm